In 81 sulla linea di partenza in 79 hanno tagliato il traguardo finale del primo trofeo Villaggio Casina del Duca a memore al Cavalier Antonio Farina. Un circuito impegnativo e suggestivo allo stesso tempo, la fatica del tracciato ed il fascino del panorama alto molisano, che ha permesso agli atleti e tanti curiosi di godere del territorio molisano. È stato l'abruzzese Antonio Bucci, tesserato con Tocco Runner, il più veloce a coprire gli 11,5 km previsti con il tempo di 39,51. Sprint finale per assegnare il resto del podio con Maurizio Di Sandro della Freerunners Iternia, che ha conquistato l'argento e danni di Domenico Vendettuoli dell'Atletica Venafro, il cronometro ha segnato solo 4 secondi di distacco tra i due. Sul fronte femminile l'ordine d'arrivo è stato Yolanda Ferritti della nuova Atletica Isernia, che ha lasciato alle sue spalle due podiste dell'Atletica Venafro, Anna Bornaschella e Ivetta Golova. La gara podistica inserita nel campionato regionale della FIDAL è stata organizzata dalla Running Pantria, che grazie alla collaborazione del villaggio Casina del Duca ha organizzato un circuito cittadino con lo scopo di promuovere il territorio alto molisano. Non solo società locali, ma anche club provenienti da Abruzzo, Toscana, Basso Lazio e Campania. Questa gara ha chiuso gli eventi organizzati dalla società del presidente Nicola Virginello. Adesso i tesserati proseguiranno la stagione con gli altri appuntamenti in Molise e anche fuori regione.